Oggi vediamo di ricomporre questo minijet. Una persona mi ha richiesto di vedere nuovamente come è fattibile fare questo. Qui tutto l'esploso. Filvalv, valvola di carico, ottone, filtro, redicella, bianco, gray, grigio, redicella, alza valvola, il filtrino importante che questa abbia il filino, il filino che esce, questo molla e quest'altro. Quindi ora cercheremo di comporlo. Mettendo. Prima il filtro. Che si è appoggiato. Gray. Sembra dritto. White. Mi aiuterò con un cazzospine. Redicella. Sembra il cacciaspine. Ottone. Ed è perfetto. Adesso il problema è per montarlo non devo metterlo giù. Al contrario. Perché sennò cade tutto. Se ci viene un po' difficile svidiamo questa. ok. 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 Questa è una valvola di un motorino. Possiamo stringere, ok? A questo punto mettiamo l'alza valvola, l'alza valvola che va dalla parte del piezo. Chiaro, ormai è venuto così difficile. Sto diventando vecchio. No, non è dal piezo, è dall'altra parte. Per questo non entrava, è l'acqua. Anche perché ci sono i bughi. Ok. Ok. Perfetto. Cosa manca adesso? Niente, poco. Questo ce l'abbiamo, questo non ha importanza perché già c'è. Questo. Questo. Filtro. Questo ce l'abbiamo. Quindi io metto prima il filtro. Sì. Perfetto. Entriamo questa solo qui. qui. E. 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 non è solo da questo, ma non è importante ok, ci vengono le viti, sentiamo le viti, non le avvediamo forte non ho capito questa vita di dov'è, non mi pare infatti, non è lei ok, vediamo che succede sto sostituendo la valvola di carico perché perderla la troverete nei miei ricambi quindi, ne mettiamo un altro, vediamo ok, vediamo